Francesco Rossi, uno degli ultimi arrivati, sei arrivato praticamente in extremis, ti sei aggregato, sarai il nuovo difensore dei pali della porta del Teramo. Questa esperienza come la stai vivendo? Sto vivendo bene, sono contentissimo di essere qui a Teramo, conosco la piazza, conosco l'importanza della squadra. Adesso le sensazioni sono positive, sono più che contento di questa scelta. Tu l'anno scorso eri a Prato, quindi conosci molto bene la realtà del girone in cui è partecipato il Teramo. L'anno scorso però con il Pratone è che si è andato tanto bene con il Teramo, una sconfitta e un pareggio. Sì, tra l'altro pareggio perché c'era un campo pieno d'acqua. No, sono venuto qua l'anno scorso a Teramo, mi ha fatto un'ottima impressione lo stadio, la gente, per cui sono molto contento di essere qui. L'anno scorso è andata male, mi hanno perso, però quest'anno vediamo di far bene e basta. Dovrai non far rimpiangere Alessandro Tonti che negli ultimi due anni comunque è stato un baluardo di questa squadra. Sì, so l'importanza e quanto è forte, l'ho affrontato due volte e ho visto che è un ottimo portiere. Quest'anno speriamo di riuscire a far bene e l'importante è cercare di far bene tutti come squadra e poi verrà tutto.